Ti trovi in una situazione in cui sembra impossibile che possa finire bene. Sembra che il male vince? Una situazione dove il male, il peccato sta vincendo? A volte il male vince, ma solo quando è secondo il piano di Dio. Perché Dio è potente da cambiare, trasformare qualunque situazione. Non importa quanto è impossibile, umanamente, non è impossibile per Dio. E perciò non dobbiamo guardare alle circostanze, non dobbiamo fare i nostri calcoli. No, ormai le cose non possono cambiare, è così. Sì, umanamente può essere così, ma Dio non è legato come noi alle circostanze. Dobbiamo imparare a guardare a Dio, avere fede in Dio, fede che Egli opererà facendo la cosa giusta, a un momento stabilito da Lui. Dio non è limitato dalle circostanze. Dio vuole da noi la fede. Dio vuole quello da noi. È molto semplice. La vita cristiana è molto semplice. Vogliamo fidarci di Dio, fidarci di Dio, non che Dio farà quello che io voglio. Quello non è fede. Quello che è il paganismo. Che i pagani pregano molto, che Dio farà esattamente come loro vogliono. E se non funziona, provano qualcun altro e poi qualcun altro. Invece di fidarci di Dio e pregare, Dio opera, glorificati, opera, opera e Dio opererà. E' anche importante per noi di ricordare che la cosa migliore che Dio può darci non è soluzione ai nostri problemi, ma è di operare potentemente per portare avanti la sua opera di salvare un popolo e trasformarli nell'immagine di Cristo. E quell'opera comprende noi, se ci ravvediamo. Cioè, la vita più benedetta non è una vita con meno problemi. Non è una vita dove i problemi si risolvono. Quello non è la vita più benedetta. La vita più benedetta è la vita in cui Dio fa di più per prepararmi per l'eternità con Lui. Questa è la vita più benedetta. Allora, cosa desideri tu? Desideri effettivamente più di Cristo o meno problemi? Ok, possiamo comprendere la potenza di Dio. Oggi vorrei riprendere il nostro studio in Atti e siamo arrivati al capitolo 12 e vedremo che nessuno e nulla può ostacolare Dio da portare avanti la sua opera. Gesù Cristo ha dichiarato che edificherà la sua chiesa e in questo capitolo vediamo che Gesù Cristo porta avanti la sua opera. E tutto quello che Satana può fare per cercare di ostacolarlo non ostacola minimamente l'opera di Dio. e io ringrazio Dio che il Dio ha l'opera in Atti 12 e ha l'opera oggi lo stesso Dio e Dio che stava portando avanti la sua opera continua a portare avanti la sua opera. Quindi trovate Atti 12 e voglio leggere da 1 a 4 all'inizio come il contesto Dio aveva iniziato l'opera salvando persone e sta portando avanti la giovane chiesa anche per mezzo di tante persecuzioni. Leggo Atti 12 1 a 4 ricordando che finora la persecuzione è venuta sempre dai giudei. Qui c'è un cambiamento. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece morire di spada Giacomo fratello di Giovanni e vedendo che questo era gradito ai giudei fece arrestare anche Pietro ora erano i giorni degli azimi. Dopo averlo arrestato lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Allora fino a questo punto una dura persecuzione ma solamente da parte dei giudei le autorità religiosi qui per la prima volta vediamo la persecuzione dallo Stato Erode era il re aveva potere politico aveva potere perfino di portare di mandare alla morte i giudei non avevano quel potere quindi Satana ha l'opera dietro le quinte spingendo i giudei adesso spingendo Erode persone con grande potenza di creare ostacoli all'opera di Cristo nella Chiesa ma Gesù Cristo vincerà Satana non può bloccare l'opera di Cristo anche se al nostro parere dal nostro punto di vista ci sono le volte che Satana vince ma questa non è la prospettiva giusta notate che Erode fece morire Giacomo Giacomo fratello di Giovanni uno di tre discepoli intimi di Gesù Pietro Giovanni e Giacomo quindi Pietro scelse di uccidere uno dei credenti gli apostoli più noti più importanti cercando di danneggiare la Chiesa più possibile e Dio permise ad Erode di far morire Giacomo allora sicuramente per i credenti di allora potevano credere oh ma Satana sta dicendo adesso ha ucciso Giacomo uno dei discepoli gli apostoli poteva far suscitare dubbi se Dio stava ancora curando la Chiesa ma Dio stava curando la Chiesa solo che le sue vie non sono sempre le nostre vie voglio notare quello che possiamo capire di Erode da questo brano dice fece morire di spada Giacomo fratelli Giovanni e vedendo che questo era gradito ai Giudei fece arrestare anche Pietro e lo mise in prigione intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua qui vediamo molto di questo uomo Erode era un uomo senza principi se non quell'unico principio di custodire i suoi interessi abbiamo letto nell'Evangelo di Giovanni che Erode aveva preso la moglie di suo fratello con una cosa abbominevole aveva fatto decapitare Giovanni e Battista perché? perché aveva fatto un giuramento alla festa perché la figlia della moglie di suo fratello che aveva preso aveva fatto una danza e lui volendo farsi grande io ti darò qualunque cosa che mi chiede e lei chiede alla mamma così devo chiedere a lui la testa di Giovanni e Battista e lui per paura di fare brutta figura ha fatto decapitare Giovanni era un uomo senza principi che gli interessava solamente se stesso un uomo così non sa cosa vuol dire avere timore di Dio fa quello che gli è comodo a suo giudizio e oggi tante persone vivono così non hanno timore di Dio cercano quello che porterà beneficio a se stesso cercano i loro interessi senza preoccuparsi di che cosa è giusto oppure vedono molto bene i peccati degli altri ma non vedono i loro ma non capisci come ha fatto ma se solo potessi capire le cose andrebbero meglio ma scusami i tuoi peccati io prego che possiamo riconoscere quanto è un grave peccato vivere per i nostri interessi eh ma se non penso io a me chi mi ci penserà Dio Dio e farà molto meglio di quanto tu hai mai potuto fare comunque Erode viveva senza timore di Dio aveva fatto morire Giacomo e volendo essere visto bene dai giudei fece arrestare anche Pietro con l'idea di far morire anche lui appena dopo la Pasqua allora essendo azimi quello è la settimana prima della Pasqua vuol dire che ha arrestato Pietro e aspettava una settimana circa per poi farlo morire e quindi Pietro si trova in prigione con quattro picchetti di quattro soldati facevano turni di sei ore quindi all'arco di ventiquattro ore sei ore un gruppetto di quattro sei ore l'altro e così via Pietro si trovava in una situazione che umanamente era impossibile per lui riscappare addirittura leggeremo che quando i soldati attaccavano una catena uno aveva una mano attaccato quel soldato l'altro quella mano attaccato quel soldato cioè poverino avevano già ucciso Giacomo non c'era speranza ma nonostante che non c'era speranza leggiamo versetto 5 cosa faceva la chiesa mentre Pietro era custodito nella prigione continue orazioni preghiere a Dio erano fatte dalla chiesa per lui una preghiera continua mentre Pietro era custodito nella prigione una preghiera continua era fatta dalla chiesa per lui dobbiamo pregare anche se è impossibile che le cose possano cambiare però attenzione dobbiamo pregare per la volontà di Dio io immagino che i credenti pregavano varie cose e una delle cose che pregavano era oh signore tu puoi liberare Pietro e se è la tua volontà farlo ma se non è la tua volontà fa sì che nella sua morte lui possa reagire come è reagito Stefano e probabilmente sicuramente Giacomo fa sì che nella sua morte possa rendere una testimonianza che rivelerà che tu sei con lui potentemente cioè non dobbiamo pregare solo per come vorremmo noi dobbiamo pregare che Dio opererà in qualunque situazione e che si glorificherà viata quella chiesa dove i membri si uniscono assiduamente nelle preghiere che desiderano la gloria di Dio e che il suo piano procederà in noi quindi questi credenti pregavano continuamente per Pietro era difficile per loro di credere che Dio avrebbe potuto liberare lui perché avevano appena visto Giacomo ucciso sicuramente avevano pregato per Giacomo poco poco tempo prima quando è stato arrestato avevano pregato e avevano visto erano lì nella folla quando hanno ucciso Giacomo ma loro continuavano a pregare per Pietro Pietro dicendo Signore tu puoi operare anche qui e hai operato quando hanno ucciso Giacomo perché lui è morto con fede quindi opera ancora nel modo migliore nonostante che la situazione era senza speranza umana Dio operò potentemente leggiamo versetto 6 che ci aiuta a capire la situazione in cui Dio inizia ad operare ora la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico Pietro dormiva in mezzo a due soldati legato con due catene e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione notate che era la notte prima che doveva comparire davanti i giudei al pubblico in altre parole era la notte prima che fosse messo alla morte la chiesa aveva pregato con costanza per Pietro dal primo giorno in cui fu arrestato Pietro era sempre là non avevano visto nessuna risposta da Dio e ora ci troviamo poche ore dalla mattina in cui sarà presentato in piazza davanti ai giudei per essere ucciso come avevano ucciso Giacomo Dio aspettava l'ultimo momento Dio aspettava l'ultimo momento prima di iniziare ad operare e questa è una verità importantissimo da ricordare i tempi di Dio non sono i nostri tempi quando noi abbiamo un problema quando che vorremmo noi la risposta subito noi vogliamo la risposta subito e se noi andiamo avanti mesi o anni pregando ormai non serve più pregare non c'è risposta ricordatevi che Dio non risponde secondo il nostro calendario ma secondo il suo e spesso Dio ci fa arrivare all'ultimo momento all'orlo prima di operare ma non è mancanza di cura questo non è mancanza di amore o di cura questo piuttosto è Dio che sta operando per aumentare la nostra fede quindi non dobbiamo disperarci quando non vediamo una risposta da Dio non dobbiamo stancarci di pregare piuttosto dobbiamo continuare a pregare fidandoci che Egli opererà nel modo giusto al momento giusto quindi ci troviamo la notte prima che Pietro viene presentato ai giudei per essere ucciso Pietro dormiva in mezzo a due soldati legato a loro con due catene uno da un lato uno dall'altro e poi c'erano i due soldati davanti alle due porte in guardia armati era impossibile per Pietro di scappare ma leggiamo quello che è successo versetti 7 8 9 10 Pietro dorme ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendetta nella cella e percorso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo alzati in fretta e le catene gli cadero dalle mani quindi l'angelo gli disse cingiti allacciati i sandali e egli fece così poi gli disse avvolgiti il mantello e seguimi e Pietro uscito lo seguiva non sapendo che ciò che gli stava cadendo per me l'angelo fosse vero infatti egli pensava di avere una visione ora come oltrapassarono il primo e il secondo posto di guardia giunsero alla porta di ferro che conduceva in città ed essa si aprì da sé davanti a loro e usciti percorsero una strada all'improvviso l'angelo lo lasciò non era il piano di Dio per Pietro di morire a quel punto era il piano di Dio per Giacomo di morire non era il piano di Dio per Pietro di morire e perciò mandò un angelo per liberare Pietro miracolosamente Dio ha fatto l'impossibile qua Dio non è mai limitato dalle nostre circostanze una cosa mi colpisce in questo miracolo l'angelo spriga Pietro avete notato quello? spriga Pietro alzati in fretta mettiti questo seguimi Dio è un'epotente potrebbe fare ogni cosa ha fatto in qualche modo si presume addumentare le guardie eppure avrebbe potuto fare morire le guardie o restare addumentati per ore no ha fatto per pochi minuti al punto che Pietro doveva sprigarsi non era necessario Dio avrebbe potuto fare che Pietro avrebbe fatto con calma avrebbe potuto fare colazione prima ma ha fatto in breve tempo questo è perché Dio sceglie quando fa miracoli di anche usare i mezzi naturali che ci ha dato quindi c'erano miracoli qui prima che le guardie non si svegliavano e poi che le catene sono cadute e poi che la porta si è aperta da sé vari miracoli qui ma Dio ha usato anche i fattori naturali che aveva già stabilito Pietro non era handicappato lì avrebbe fatto sì che c'era più tempo per lui uscire lentamente invece Pietro era in buona salute Pietro spiegati dobbiamo usare i mezzi che Dio ci dà notate che Pietro seguiva l'angelo senza rendersi conto senza sapere chi era vero infatti era convinto che fosse una visione e qui c'è una lezione molto importante per noi a volte noi preghiamo e Dio inizia ad operare e noi non vediamo l'opera di Dio e Dio è all'opera e noi tu eh ma Dio sta operando eh no 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 non sta operando le cose sono come sempre e Dio è potentemente all'opera e non crediamo che sia Dio all'opera tante volte noi abbiamo ormai deciso che non farà nulla le cose non cambieranno e nonostante che Dio comincia a cambiare le cose noi non ci crediamo siamo un popolo di poca fede a volte anche se stiamo pregando non crediamo quando davanti i nostri occhi le cose cominciano a cambiare sta a cambiare ma non durerà a tutti i costi vogliamo non crederci era così per Pietro e spesso è così per noi però era vero anche se Pietro non ci credeva e fra pochi minuti Pietro si trova per strada fuori dalla prigione da solo l'angelo era andato via Dio aveva compiuto il miracolo proseguiamo il brano versetto 11-12 quando rientrò in sé Pietro disse ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e reso vano tutta l'attesa del popolo dei giudei quando si rese conto della situazione si raccò alla casa di Maria madre Giovanni soprannominato Marco dove molti fratelli erano radunati e pregavano il brano inizia dicendo che Pietro rientrò in sé cioè prima non credeva che quello che succedeva fosse vero adesso riconosce e accetta la realtà che Dio aveva compiuto il miracolo le cose impossibili da cambiare erano cambiate e Pietro era libero dalla prigione e dalla morte notate che Pietro dichiara Dio ha reso vano tutta l'attesa del popolo dei giudei in altre parole i giudei erano in attesa di vederlo messo alla morte e Dio sovrano su tutto aveva reso in vano questa attesa fratelli e sorelle Dio è capace a rendere vano qualsiasi piano degli uomini Dio è capace non è mai limitato minimamente quanto è importante per noi di avere la fede di riconoscere la potenza di Dio Dio è Dio Dio è sovrano su tutto e su tutti quando ci affidiamo a Dio siamo al sicuro anche se Pietro fosse stato messo alla morte sarebbe stato al sicuro Dio renderà a vano qualunque piano degli uomini che va contro quello che Dio ha stabilito per noi e per il suo regno quando Pietro si rende conto della situazione si raccò alla casa di Maria la frase si rese conto della situazione vuol dire che comincia a valutare la situazione allora sono stato liberato dalla carcere ma fra un'ora o due cambiano picchetti e loro vedranno che anche se sono ancora dormitati quelli lì non so quanto dormono ma gli altri li conosceranno faranno l'allarme cominceranno a cercarmi allora io devo spregarmi devo spregarmi e allora ma voglio dire ai fratelli dove si troveranno i fratelli ah si incontrano spesso a casa di Maria mamma di Giovanni Marco vado lì ci saranno dei credenti là lui e poi devo scappare lui ha valutato ha usato i fatti che Dio lo permetteva di sapere per valutare quale sarebbe il piano di reazione migliore e così subito va a casa di questa Maria madre di Giovanni soprenominato Marco dove infatti c'erano molti fratelli radunati che pregavano evidentemente era una casa grande dove i credenti si incontravano alcuni studiosi presumono che probabilmente era lì che Gesù aveva fatto l'ultima cena con i suoi discepoli era probabilmente Giovanni detto Marco che aveva seguito Gesù vestito di un lenzuolo arrestato nel giardino scappando dalla lenzuola e quindi Pietro va lì nonostante che era in mezzo alla notte molti fratelli stavano lì pregando oh queste persone dovevano andare al lavoro la mattina dovevano andare a lavorare però stavano lì in mezzo alla notte pregando la chiesa di Gerusalemme i credenti erano veramente perseveranti nella preghiera e nonostante che avevano pregato dal giorno in cui Pietro fu arrestato e nonostante che nulla era cambiato loro continuavano a pregare nonostante che ormai sembrava impossibile che ci sarebbe un cambiamento perché ormai mancava poche ore arrivava l'alba e Pietro si è stato portato e ucciso in piazza loro ancora erano lì pregando quanto è importante perseverare nella preghiera quanto è importante non arrendersi vi ho detto che conosco varie persone mia mamma e vari altri che hanno pregato prima papà per più di 34 anni 34 anni ogni giorno non sono pochi anni di non arrendersi di non vedere i cambiamenti e continuare a pregare perseverare non dire ma è troppo tardi ma non cambierà nulla ho già pregato più di un anno più di due anni più di cinque anni più di vent'anni non smettere mia mamma ha visto mio papà proclamare Gesù Cristo ravvedersi e credere in Cristo allora voglio notare la reazione dei credenti quando Pietro arriva leggo da 13 a 17 appena Pietro bussò alla porta di ingresso una sera di nome Erode si avvicinò cautamente per ascoltare e riconosciuto la voce di Pietro per la gioia non aprì la porta ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso ma essi le dissero tu vaneggi ella però affermava che era così e quelli dicevano è il suo angelo Pietro intanto continuava a bussare oresti avendo aperto lo videro e spigottirano ma egli fatto loro cena con la mano di tacere raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione poi disse riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli questo Giacomo non è quello ucciso chiaramente questo è Giacomo fratello di Gesù fratellastro e ai fratelli poi uscì e si recò in un altro luogo abbiamo visto prima che Pietro non si rendeva conto che fosse vero quello che stava suggerendo a lui quando l'angelo lo stava liberando pensavo che fosse una visione perché a lui sembrava impossibile che potrebbe succedere adesso vediamo una cosa simile in questi credenti quando Pietro arriva alla porta di ingresso della casa con questi credenti dentro e bussa e la serva riconoscendo la voce corre a dire a tutti c'è Pietro c'è Pietro dietro davanti non ci credono credono che la serva veneggiava cioè nonostante che stavano lì per quali scopi per pregare per la liberazione di Pietro fra l'altro sicuramente quando Dio ha compiuto quello che pregavano non ci credevano pregavano sì ma senza credere che Dio avrebbe risposto a quella preghiera è buono pregare ancora meglio avere fede quando preghiamo quanto spesso noi preghiamo con poca fede preghiamo perché è giusto pregare ma non crediamo che le cose cambieranno continuiamo a pregare però impariamo che possiamo fidarci di Dio egli può fare l'impossibile e farà l'impossibile ogni volta che è la cosa migliore quando la serva insiste no è Pietro è Pietro allora dicono no è il suo angelo ma cosa è questo? allora qui vediamo che questi credenti credevano una dottrina falsa che non è biblica però era una credenza di tradizione non dalle scritture dai giudei i giudei avevano creato una dottrina che ogni persona ha un angelo suo personale non è biblico questo per niente e quell'angelo può perfino prendere la forma e la voce di quella persona era tutta una cosa di superstizione e quindi eh ma non sarà Pietro ma potrebbe ma se veramente sembra Pietro sarà suo angelo questo è per noi un avvertimento che anche noi possiamo avere credenze che non sono dalla Bibbia che abbiamo trascinato dentro la nostra fede da come abbiamo creduto nel passato noi possiamo avere tante cose che noi crediamo che affermiamo che noi sembra giusto non perché abbiamo visto questi principi nella Bibbia ma perché è così che siamo cresciuti e così abbiamo sempre creduto questo riguarda come viviamo il matrimonio i ruoli nella vita come fare i genitori come viviamo nella società possiamo avere posizioni credenze che non sono secondo Dio ma sono quelle che abbiamo sempre avuto e dobbiamo imparare a sottoporre quello che noi crediamo come in modo giusto alla parola di Dio comunque Pietro non smette a bussare finché non vengono per aprirlo e rimangono spigottiti perché è veramente Pietro Dio aveva fatto l'impossibile Pietro li fa tacere perché ha fretta e poi subito racconta loro quello che era successo poi dice loro raccontate queste cose agli altri e subito scappa per andare in un altro luogo per nascondersi cioè lui sapeva anche i romani sanno dove ci incontriamo quindi se loro quando loro vengono a cercarmi verranno qui per primo quindi non devo essere qua quindi lui spiega e parte per andare in un posto senza dire a nessuno così neanche loro potevano dire alle guardie dove sarebbe andato e qui vediamo un altro piccolo pensiero importante Pietro è stato liberato miracolosamente ma a questo punto non servivano più miracoli serviva per lui di usare i mezzi che Dio aveva dato a lui Dio aveva dato lui la capacità di pensare aveva dato lui conoscenze di varie persone quindi avrebbe un posto nascosto e Dio pretendeva giustamente per lui guarda ti ho liberato miracolosamente ma adesso usa quello che ti ho già dato non ti servono più miracoli basta la testa che Dio ha dato e Pietro ha fatto quello quindi dobbiamo utilizzare i mezzi che Dio ci ha dato se Dio mi dà un lavoro non devo pregare per il miracolo per avere cibo che io non vado più a lavoro e solo mi arriva cibo o soldi a casa devo andare al lavoro ma se io mi trovo che facendo il massimo non mi basta allora mi fido di Dio Dio aveva operato miracolosamente per liberare Pietro dalla prigione e dalla morte e questa liberazione ha portato la morte ai soldati che facevano la guardia leggetti con me versetto 18 e 19 quando si fece giorno vi fu un gran subbuglio fra i soldati perché non sapevano cosa fosse avvenuto di Pietro ed Erode lo mandò a cercare ma non lo trovò e dopo aver interrogato le guardie comandò che fossero condotte a supplizio poi discese dalla Giudea a Cesarea e là si fermò e non c'è in greco per un po' di tempo la si fermò punto infatti c'è un versetto la dimorò nel piano di Dio la liberazione di Pietro dalla prigione portò alla morte di questi soldati infatti quando dice che furono condotti a supplizio secondo la legge romana vuol dire che furono portati a essere messi a morte infatti la legge romana dichiarava che se un soldato dovesse lasciare scappare un prigioniero sotto il suo controllo guardia doveva essere messo alla morte quel soldato in realtà Erode avrebbe capito quello che era successo perché Erode avrebbe sentito come Pietro e Giovanni erano nella prigione dal Sinedrio e furono stati liberati dall'angelo ricordati da Dio miracolosamente avrebbe sentito avrebbe capito Erode era quello che aveva capito i miracoli di Gesù e voleva vedere uno lui Erode sapeva della potenza di Dio che riguardava Gesù e i suoi seguaci ma Erode assolutamente non voleva che le persone lì i giudei sapessero che Pietro era stato liberato miracolosamente e perciò che lui ha interrogato i soldati e avrebbero spiegato quindi avrebbe capito ma questo è un miracolo perché non è possibile per quattro soldati romani di addumentarsi tutti i quattro poi legati con catene come poteva Paolo liberarsi cioè Pietro liberarsi però immagino che lui capiva più che bene ma non voleva che fosse e la soluzione facciamo morire questi soldati per una cosa la loro storia non può spargere poi notate che dice Erode discese dalla Giudea a Cesaria e là si fermò come dico le parole per un po' di tempo non c'è la dimorò da quello che noi leggiamo Pietro non è mai Erode non è mai tornato in Giudea ha preso dimora lì a Cesaria infatti è morto lì dopo poco e non ha mai più perseguitato la Chiesa la Chiesa non è stato perseguitato più da Erode se lui aveva capito che era Dio che aveva liberato Pietro probabilmente aveva timore di fare altro per qualunque motivo non ha fatto altro e Dio ha permesso quella persecuzione con la morte di Giacomo ha liberato Pietro e poi ha protetto la Chiesa in quel momento da altre persecuzioni per ricordarci che Dio è in controllo Dio è in controllo andiamo avanti perché voglio capire un altro dettaglio del cuore di Erode e quanto Dio è geloso per la sua gloria leggo 20 a 23 ora Erode era indignato contro i tiri e i sidoni ma essi di comune accordo si presentarono a lui e per suo blasto ciambello anno del re chiedevano pace perché il loro paese era rifornito di vivere dalla liberalità del re nel giorno stabilito Erode vestito del manto regale e seduto sul trono teneva loro un discorso il popolo lo acclamava dicendo voce di Dio e non di uomo in quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e morì rosso dai vermi allora questo brano questo brano ci mostra vari peccati che sono molto comuni prima Erode era indignato contro i tiri e i sidoni quanto spesso gli uomini arrivano ad avere i rapporti dove il rapporto è uno di essere indignato l'uno contro l'altro dove non è più amore e bontà ma cattiveria nei confronti l'uno dall'altro spesso succede perfino in casa o con persone al lavoro si porta avanti indignazioni contro qualcun altro questo è un peccato grave poi notate che queste due città Tiro e Sidone volevano pace con lui ma che pace volevano e perché volevano questa pace non era vera pace ma visto che loro vivevano dai viveri provveduti dal re volevano pace ma non perché gli interessava loro di essere riconcilati con lui era per i loro interessi volevano una cosa apparentemente buona ma la motivazione era tutto egoista se non fosse stato per il fatto che il loro cibo veniva da Erode allora non interessava pace con Erode e questo dimostra anche il peccato di cercare quello che ci è comodo che può sembrare una cosa buona ma la motivazione è tutt'altro che buona e poi volendo questo da Erode davano adulazione a lui adulazione belle parole bellissime parole tutte false non è erano bugiardi dicevano belle cose per ricevere da lui un regalo regalo di la sua approvazione e questo è malvagio e porterà al male a tutti quanti le parole erano così esagerate parole di Dio e non di uomo che Erode sapeva benissimo che erano false lui sapeva di essere un uomo lui sapeva non essere un Dio lui era limitato più volte nella vita aveva timore di altri lui voleva vedere il miracolo non ha fatto lui non era capace di tenere in vita Giovanni Battista pur avendo voluto lui sapeva di essere debole quindi lui capiva che queste parole erano false però il cuore che cerca gloria per se stesso accetta anche una lode falsa quanto è grave il peccato di quella gloria per noi e ci fa scendere a cose stolte lui peccava grandemente quello che loro dicevano era oltremodo esagerato voce di Dio e non di uomo e lui sapendo di essere un semplice uomo avrebbe dovuto fermarli non dite questo anche io sono uomo ma lui accettava questa gloria non avendo timore di Dio accettava un'adorazione che apparteneva solo a Dio questo è un peccato grave ma posso io puntare il dito all'erode senza riconoscere che io stesso ho fatto questo qualunque volta che una persona mi ha dato tanti complimenti ma quando sei stato bravo ottimo ottimo e io ho detto grazie grazie non dando gloria a Dio cosa ho che non ho ricevuto che capacità opportunità intelligenza forza ho che non ho ricevuto e la risposta biblica è zero quindi se uno dà complimenti oh quanto sei stato bravo io devo dire grazie tanto è tutto da Dio a lui la gloria se no sto peccando come erode prendendo gloria per me che non appartiene a me è come un camariere che la gente ma quanto è buono grazie grazie cerco di curare i miei clienti non ha cucinato lui ha solo portato il piatto ha rubato gloria dal cuoco dallo chef qualunque cosa che noi possiamo dare viene da Dio e Dio geloso per la sua gloria colpì subito erode e lui con qualche malattia pieno di vermi una morte molto terribile che lo ha portato alla morte non si sa probabilmente ha sofferto vari anni prima terribilmente comunque è morto da questo Dio non sempre manda la morte in questa vita ma Dio sempre punerà il peccato Dio non punisce spesso il peccato in questa vita la vera punizione è sempre dopo la vita e ricordate questo uno può vivere bene fino alla vecchiaia ma poi c'è il giudizio e si capisce che qui non valeva niente concludendo capitolo lego 24-25 ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva e Barba e Saulo ultimata la loro missione ritornarono già a Gerusalemme e ad Antiochia avendo preso con loro Giovanni soprannominato Marco ormai la Chiesa aveva subito grande persecuzione ma Dio come abbiamo già letto più volte continuava a crescere la Chiesa pensate botta dopo botta di persecuzione di problemi di difficoltà e Dio continuava a crescere la Chiesa la parola di Dio cresceva e si diffondeva sempre di più la Chiesa ha iniziato con 120 persone è un gruppetto a Gerusalemme e ormai a questo punto era diventata una Chiesa con migliaia e migliaia e migliaia di persone sparsi in tutta la Giudea la Samaria e sempre più posti fra il mondo dei gentili e tutta l'opposizione che Satam poteva mandare alla Chiesa non ha potuto fermare l'opera di Dio e quanto è importante per noi di riconoscere e ricordare che Dio è in controllo di ogni situazione nella nostra vita per quanto una situazione sembra grave per quanto sembra impossibile Dio è in controllo e possiamo fidarci di Lui nulla può fermare Dio in quello che sta facendo in noi e nel mondo intorno a noi nessuna prova nessun peccato nessuna difficoltà nessuna opposizione può ostacolare Dio io non riesco a capire questo io non riesco a capire come perfino i peccati ma io vi dico io pregavo stamattina presto ringraziando Dio dei peccati che mi sono arrivati che mi hanno fatto vedere più del mio peccato ha detto Signore solo tu puoi fare questo solo tu puoi fare questo io accetto quello che tu mandi perché io voglio essere più come Cristo tante volte nella storia Satana ha cercato di distruggere la Chiesa tante persecuzioni e tuttora ci sono ma Satana non è mai riuscito a distruggere la Chiesa addirittura la Chiesa è cresciuta e sparsa in tutto il mondo nulla può fermare Gesù Cristo da edificare la sua Chiesa la Chiesa continua a crescere oggi e ha raggiunto anche noi grazie a Dio per questa verità non vivete per qualcosa che perderai non impegnarti per quello che perderai per sicuro come vi ho detto riguardando quest'anno a settembre siamo adesso a settembre giusto? ecco siamo a settembre il 27 settembre per una cosa è il nostro anniversario per un'altra cosa è la la quarantesima anniversaria del mio della mia classe di liceo si incontrano il 27 settembre ho ricevuto l'invito di andare e celebrare insieme 40 anni da quando ci siamo diplomati insieme e vi ho già detto 10% di loro sono già morti e tanti altri sono sulla via della perdizione cosa c'è da celebrare? cosa c'è da celebrare? siamo già al punto dove abbiamo oltrepassato e siamo sulla declina e tutti i sogni e impegni della gioventù non valgono più solo chi ha Cristo solo chi ha Cristo e purtroppo vari sono morti senza Cristo il capitolo conclude dicendo che Paolo e Barma avendo completato la loro missione di portare aiuto dalla chiesa di Antiochia alla chiesa di Giudea ritornarono da Gerusalemme ad Antiochia avendo preso con loro Giovanni soprannominato Marco e qui Luca ci sta preparando per quello che sta per succedere in capitolo 13 perché Dio lega insieme tutti i dettagli allora in questo capitolo abbiamo visto ancora che Dio porta avanti la sua opera e nessun problema è un problema per Dio possiamo fidarci di Dio non dobbiamo guardare all'impossibilità tu non sai ho già provato da anni non funziona tu non sai no tu non sai che Dio è Dio dell'impossibile e vuole semplice fede Dio non sempre opera come vogliamo noi non sempre fa quello che vogliamo noi perché Dio sa la cosa migliore e noi non lo sappiamo Dio permise che Stefano fu lapidato permise Erodi di uccidere Giacomo con la spada ma liberò Pietro dalla morte perché non era il momento stabilito per Pietro di morire era dopo che doveva morire per la fede quando preghiamo fidiamoci della cura e della sapienza di Dio preghiamo signore se la tua volontà libera Pietro se la tua volontà risolve questo problema ma signore se tu hai un piano migliore io accetto la tua volontà allora nel caso di Pietro se la tua volontà per lui di morire come Giacomo accettiamo quello ma fa sì che posso morire in modo che ti dà gloria fortifica la sua fede fino alla fine signora signore e noi pregando per fede Dio opererà con potenza abbiamo visto un altro ricordo dell'importanza della preghiera la chiesa la chiesa pregava continuamente per Pietro pregavano fino all'ultimo momento per Pietro si riunivano nella preghiera e se noi diventiamo una chiesa che prega di più veramente uniti Dio opererà potentemente per glorificarsi in mezzo a noi ricordate che Dio può fare miracoli tuttora fa miracoli ma lui intende per noi di usare i mezzi naturali che ci ha dato quindi mettiamoci da fare riconoscendo che tutto quello che abbiamo viene da Dio e poi lavoriamo aspettando la sua opera grazie a Dio che lui opera nelle situazioni più difficili opera con potenza a volte liberandoci dalla prova a volte fortificando la nostra fede anche fino alla morte o passare la prova ma Dio opera potentemente non è meno grande il miracolo di fortificare la fede di quanto è di liberare dalla prigione accettiamo come Dio vuole operare fidandoci che lui sa meglio che lui sa meglio e camminiamo per fede in attesa di Gesù Cristo che sta edificando la sua chiesa preghiamo Signore Dio nostro sovrano sull'universo sovrano su ogni persona non riesco a capire questo ma tu hai permesso all'erode di uccidere Giacomo e non hai permesso all'erode di uccidere Pietro perché tu sei sovrano su tutti io io non ci capisco perché tu sei Dio le tue vie non sono le mie vie i tuoi pensieri non sono i miei pensieri sono infinitamente più alto io semplicemente accetto la verità che tu sei Dio tu sei in controllo tu sei sovrano tu puoi fare tutto e tu stai operando potentemente anche oggi oh padre quanto spesso io ho visto la tua opera e non ho creduto quello che ho visto quante volte come Pietro in mezzo ad un'opera tua non credevo quello che vedevo ma no non sarà quello quanto spesso ho avuto poca fede perdonami e grazie che tu sei all'opera e grazie che tu non sbagli mai e grazie che tu non sei mai in ritardo anche se spesso tu scegli di aspettare l'ultimo momento perché tu vuoi fede in me io vorrei che tu rispondessi subito ma non è il tuo piano aiutami a accettare il tuo piano e non pretendere che tu faccia il mio oh padre io ti ringrazio per Gesù Cristo che non lascia mai la tua destra ma intercede per noi prega per noi è il nostro avvocato è il nostro accesso a te ti ringrazio padre che Gesù Cristo ha iniziato a edificare la sua chiesa sta ancora edificando la sua chiesa e porterà dentro tutti coloro che lui ha scelto salverà tutti proteggerà tutti e presenterà tutti i veri credenti a te santificati senza macchia irreprensibili per stare nella tua presenza per sempre padre non voglio vivere guardando a questa vita come se fosse tutto qua perché non è questa vita è un vapore qua oggi e domani non c'è aiutami a vedere più di Cristo aiuta ciascuno a vedere più di Cristo a desiderare più di Cristo a fidarci più di quello che tu stai facendo in noi per la tua gloria grazie per la tua parola grazie che tu non cambi mai continua la tua opera glorificati in noi aumenta la nostra fede ti prego nel nome di Gesù Cristo amén grazie a tutti Grazie a tutti.